Che il Signore vi benedica tutti e tutte. Una benedizione grande da parte di Dio per tutti voi. Il Signore ha tante benedizioni per i coraggiosi, per i forti, per coloro che perseverano nel cammino del Signore. Bisogna perseverare. Non scoraggiatevi, non angosciatevi. Non corrucciate il vostro volto. Non preoccupatevi. Dio è vicino a voi. È vicinissimo a noi. E Lui ci ascolta. Ascolta le nostre preghiere, le richieste e i desideri del cuore. E Lui vede le vostre afflizioni. Non preoccupatevi. Voi andate avanti. Perché le benedizioni sono per i coraggiosi, per i forti, per coloro che si rivestono dell'armatura di Dio e continuano questo cammino sia nei giorni belli che nei giorni brutti. Perciò noi che stiamo vivendo giorni malvagi, in questo periodo, dobbiamo andare avanti, in questo cammino, mano nella mano col Signore, con entusiasmo, con allegria nel cuore, con ottimismo. Non preoccupiamoci, perché il Signore ci consolerà. Lui ci parlerà e ci farà tante promesse. Poi Lui benedice, libera. Lui ha fatto tanti guarigioni, miracoli. Ha benedetto tante persone. Pertanto, se c'è qualcuno che dice Dio non mi ha benedetto, non mi ha promesso quello che mi ha detto, non ha compiuto le promesse, significa che voi dovete riflettere sulla vostra vita, chiedere perdono, vedere in cosa dovete cambiare, guardare i vostri difetti, così che Dio tenda la mano e vi benedica e vi aiuti. Questo dovete fare. Adesso cantiamo al Signore un inno, come al solito. Cantiamo al Signore l'inno numero 222, inno 222, che si intitola O Cristo mio. E lo cantiamo con il cuore, anche voi seduti o accomodati, come voi volete. Cantiamo insieme questo inno. Se avete il libro dei Cantici, potete aprirlo e cantare a Dio. Inno 222 O Cristo mio. O Cristo mio, rei di mia alma, salvastemi del mal, lavome nel raudal, di tua preciosa, sangra purissima, e non ci sia, non ci sia, ne condamina. Tanto mi amaste, poi che ti diste, sacrificandoti Sobre una cruz Por mi redenzione Con tanto amor Sé que te amo Cristo mi salvador Cuando iba errante Tú me buscaste No me dejaste Perder el alma Por plena gracia Compraste mi salud Impartiéndome La santa virtud Tanto me amaste Pues que te diste Sacrificándote Sobre una cruz Por mi redenzione Con tanto amor Sé que te amo Cristo mi salvador Oh Cristo mío Rey de mi alma Salvasteme del mal La bombe en el raudal De tu preciosa Sangre purísima Ninguna mancha Ninguna mancha Ninguna mancha Ne contamina Tanto me amaste Tanto me amaste Sì che te amo, Cristo mi salvador Quando io errante, tu me buscaste Non mi lasciate perdere l'alma Per plena grazia compraste mi salute Impartiendomi la santa virtù Tanto mi amaste, poi che ti diste Sacrificandote sobre una cruz Por mi redenzione con tanto amor Sì che te amo, Cristo mi salvador Glorificato Dio E così come Lui si è sacrificato per noi Anche noi Dobbiamo sacrificarci Soprattutto nei giorni malvagi Dobbiamo sopportare Avere pazienza Rassegnarci Aspettare E andare avanti E perseverare nel cammino Affinché possiamo ottenere la vittoria Che bello è cantare a Dio Soprattutto quando lo facciamo Con tutto il nostro cuore Nei salmi Il Signore ci invita sempre a cantargli A norrarlo, a glorificarlo Bene Oggi Credo che già siate pronti Preparati Seduti Oggi impareremo Oppure ripasseremo per alcuni Un insegnamento Che già noi conosciamo La Chiesa Ha già insegnato Questo tema Questa dottrina Ma è conveniente Ripassare alcuni temi Affinché tutti diventino Maestri e maestre Della parola del Signore E anche perché abbiamo Persone recenti Che ci stanno accompagnando In questi insegnamenti Molte persone Sono recenti Persone di altre denominazioni Anche Che stanno ascoltando Gli insegnamenti Perciò Questo insegnamento E anche per loro Per imparare Affinché tutti Possiamo gestirci Nella nostra vita Di come Soprattutto Gradire Dio Com'è vivere Una vita Gradevole Al Signore Come vivere nel mondo E con piacere Al Signore Oggi parleremo di questo Non consultare Maghi Indovini Veggenti Streghe Sciamani E altri Hanno diversi nomi Questi personaggi Ma tutto questo Significa Una sola cosa Tutti questi nomi Si possono racchiudere In una sola cosa Infatti Il Signore diceva Non consultare nessuno Eccetto me E oggi leggeremo Le proibizioni Che Dio Fece Al popolo di Israele Riguardo Alla consultazione Di altri personaggi E Dio Attraverso Mosè Insegnò Al popolo di Israele Quello che doveva fare E quello che non doveva fare Tra queste cose C'era il fatto Di non consultare Questi personaggi Ne parliamo Perché Tutti questi personaggi Abbondano Nel mondo Le persone consultano Le carte I tarocchi Hanno diversi nomi Ma tutti si possono Racchiudere Sotto una sola parola Spiritismo Magia Sciamani Incantatori Hanno diversi nomi Perché sicuramente Si specializzano In qualcosa Ma Sono una sola cosa Cioè Sono personaggi Strumenti del diavolo Allontanati da Dio Che fanno il male Perché questi Personaggi Che si prestano A fare queste cose Si convertono In strumenti Nelle mani Del diavolo E devono fare Un patto Con il diavolo E il diavolo Dice loro Io voglio La tua anima Però in cambio Ti darò poteri Se tu mi dai La tua anima E ciascuno Di questi personaggi Chiede un potere Alcuni diventano Indovini Perché il diavolo Dà loro il potere Di indovinare Allora tu Indovinerai Tante cose Alle persone Altri Dicono Io voglio Diventare Uno stregone E allora Il diavolo Gli dà Il potere Di fare del male Alle persone Il diavolo Dà il potere A quel personaggio Di fare del male Attraverso Fotografie Bambole Fetici Attraverso Attraverso Dei riti Come i voodoo Chiamano così Quindi il diavolo Dice io ti do potere Affinché tutto Quello che tu fai Faccia effetto Su quella persona Così che tu Avrai oltretutto Tanto denaro E tanti clienti Tanti clienti Solo che il diavolo Non dice mai a questi personaggi Sarete felici No La persona Può avere denaro Facendo queste cose Ma è infelice Perché è posseduto Dal diavolo E che dire Poi dei maghi Degli incantatori Dei veggenti Anche loro Fanno i loro rituali Usano Degli oggetti Ottengono potere Dal diavolo In cambio Della loro anima Perché la loro anima E la loro vita Poi finisce Per appartenere Al diavolo E se qualcuno Di loro Vuole allontanarsi Dal diavolo E smettere Di fare queste cose Il diavolo Non glielo permette Gli toglie la vita Piuttosto che Lasciarlo libero Piuttosto che Sciogliere il patto Che quella persona Ha fatto col diavolo Ecco Questi personaggi Si costruiscono Addirittura Dei tabernacoli Delle case Del diavolo E Dio Siccome lui Ha visto Tutto questo comportamento Già da Adamo e Deva Perché già In quell'epoca Il diavolo Si era convertito In nemico Di Dio E anche In nemico Di Adamo e Deva E di tutta la loro Discendenza Perché il diavolo Iniziò a insegnare Tutte queste malvagità Il diavolo Cominciò a manifestarsi E a sedurre Uomini E donne E gli uomini E le donne Si lasciarono sedurre Perché il cammino Del diavolo Sembrava loro Molto buono Perché guadagnavano Denaro Si arricchivano Perciò Seguirono Il cammino Del diavolo Per questo Quando Dio Distrusse L'umanità Con il diluvio Nell'epoca di Noè Era perché C'era tutta questa Idolatria C'erano i stregoni Indovini Maghi Veggenti Streghe Tutti questi personaggi Erano già Apparsi Oltre Tutta l'idolatria Ecco perché Dio Distrusse L'umanità Attraverso il diluvio Poi Dio Dà Un'altra opportunità All'umanità Perché Dio Aveva fatto Il suo patto Meraviglioso Prima ancora Della creazione Del mondo E voleva portarlo A compimento E quel patto Era che un giorno Lui avrebbe inviato Il messia Il salvatore Per formare Un popolo Perfetto Nuovo Una chiesa Perfetta Che si Veramente Avrebbe lodato E servito Dio E Dio Siccome aveva Questo piano Allora lasciò Viva Una famiglia Dopo il diluvio La famiglia Di Noè Che venne protetta Dando Attraverso questa famiglia Un'opportunità All'umanità E attraverso Noè La sua famiglia La terra Nuovamente Si popolò Nuovamente Il diavolo Comincia a lavorare Nella mentalità E nei cuori Degli uomini E delle donne Che tornano Nuovamente All'idolatria Alle stregonerie A tutto questo E poi Appare Mosè Dopo che Dio Aveva fatto Promessa Ad Abramo Isacco Giacobbe Dopo che Fece uscire Il popolo Dall'Egitto Attraverso Mosè Da appunto Mosè Dei comandamenti Dei leggi Delle statuti Da insegnare Al popolo Di Israele Dicendo al popolo Di non consultare Più i maghi Ma solamente Dio E lo leggiamo In Levitico Capitolo 19 Verso 26 Levitico Capitolo 19 Verso 26 Qui Dio sta consegnando Le leggi A Mosè E tra tutti i requisiti E le leggi Che Dio diede A Mosè C'era Questo ordine E Nel verso 26 Dice Non mangerete Nulla Che contenga Sangue Non praticherete Alcun genere Di magia O di divinazione Dice così Dice Non praticherete Alcun genere Di magia O divinazione Questo era un comandamento Tra tutti gli altri Comandamenti Tra tutti i decreti Tra tutti gli statuti Che Dio stava ordinando Al popolo di Israele Si proibiva La magia E la divinazione Perciò Il popolo di Israele Non doveva convertirsi In strumento Del diavolo Diventando Un mago Uno stregone Un indovino Come lo si vuol chiamare E nel verso 31 Nello stesso capitolo Nello stesso capitolo 19 Nel verso 31 Dice Dio nuovamente Parla A Mosè Per insegnare Al popolo Dicendo Non rivolgetevi Ai medium E ai maghi Significa Non andate Da questi personaggi Non consultateli Per non contaminarvi Per mezzo loro Io sono l'Eterno Il vostro Dio Dice così Non andate a consultare I maghi I medium Non consultateli Perché altrimenti Vi contaminate Come vi contaminate I loro spiriti Di questi maghi Di questi personaggi Diventano I vostri spiriti Passano a voi Entrano in voi I demoni Che loro hanno Entrano in voi Perché? Perché loro hanno Il potere Del diavolo Il diavolo Manda Degli spiriti Dei demoni All'interno Del corpo Di quei maghi E quando qualcuno Va a consultare Questi maghi Gli spiriti Di quei maghi Diventano I vostri spiriti I loro demoni Contaminano Successivamente Il vostro corpo La vostra anima Si attaccano A voi Questo significa Quindi Se un uomo Una donna Va a consultare Un mago Un indovino Un veggente Una strega O a chiedere Che Una maledizione Una stragoneria Per qualcuno Della famiglia Al vicino Chiunque Sia Il capo Dell'impresa Il titolare Vanno da questi maghi E chiedono Una maledizione Ma i demoni Di quei maghi Si attaccano A quelle persone Che sono andate Per consultare I maghi Le persone Che sono andate A consultare Non diventano A loro volta Dei maghi O degli indovini Semplicemente Acquisiscono Prendono I demoni Dei maghi Perché Perché sono andate A consultare Quei maghi Hanno posto La fiducia In quei personaggi In quegli indovini In quei veggenti Così Di conseguenza Gli spiriti malvagi Di quei maghi Entrano A possedere La persona Che è andata Per consultare I maghi E quella persona Prende Nel suo corpo Quei demoni Cosa significa Che quelle persone Che volevano Far del male Agli altri Andando dai maghi Chiedendo una maledizione Ignorano Che loro stessi Diventeranno Strumenti Del diavolo Che il loro corpo Diventerà L'abitazione O la casa Del diavolo E poi Quelle persone Cominciano A diventare tristi A soffrire Cominciano Sì Ad essere infelici Desiderano suicidarsi Se quegli spiriti Non escono Dai loro corpi Allora Quegli spiriti Cominciano Anche a circondare E a entrare Nei loro familiari E li istigano Per esempio Al suicidio Li istigano Per esempio A prendere Un coltello A suicidarsi Oppure A puntare Il coltello Ad un familiare Ad un genitore Ad un figlio Questo accade E il Signore dice Non contaminatevi Non andate da loro Da questi maghi Perché altrimenti Contaminerete voi stessi E la vostra famiglia Quando il Signore Insegnava tutto questo A Mosè Aveva ragione Di farlo Di proibire Tutte queste cose Al popolo Questo tema È molto interessante Affinché Le persone Che stanno facendo Queste cose Si pentano O quelli Che pensano Di andare A consultare Gli indovini Che stiano attenti Altrimenti uscirete Voi stessi Contaminati E vittime Dei demoni Dei maghi E degli indovini Continuiamo a leggere Gli ordini Che il Signore Diede A Mosè Levitico Capitolo 20 Nel capitolo successivo Verso 6 Dice qui Il Signore Stava sempre insegnando E dice nel verso 6 E se una persona Uomo o donna Si rivolge Ai medium E ai maghi Per prostituirsi Dietro di loro Io volgerò La mia faccia Contro quella persona E la sterminerò Di mezzo Al suo popolo Santificatevi dunque E siate santi Perché io sono L'Eterno Il vostro Dio Qui il Signore Stava proibendo Di andare A prostituirsi Dai maghi O dai medium Ecco Il Signore Diceva al popolo Di non andare Da questi indovini Da questi veggenti Né tantomeno Di praticare La magia Il Signore Dice che lui Avrebbe sterminato Una persona Dalla sua presenza Una persona Una persona che sarebbe Mi allontanerò Da quella persona Uomo o donna Che sia Questo è quello Che significa Quando il Signore Dice Sterminerò Una persona Dalla mia presenza O dalla congregazione O dal mio popolo Passiamo adesso Al libro Dei numeri Passiamo al libro Dei numeri Che si trova Dopo Levitico Capitolo 23 Numeri 23 Perché sto parlando Di questo oggi Di questo tema Della stregoneria Della magia Perché mi arrivano Tante mail Nelle quali Le persone Mi raccontano Che a causa Della pandemia Devono rimanere Isolati In casa In un appartamento Insieme Ai loro familiari Familiari Che non vengono In chiesa Che non si Congregano Insieme ai fratelli Perciò Cosa succede All'interno Di quella famiglia Che ci sono Delle vittime Di stregonerie Di maledizioni E stanno soffrendo A causa di questo problema Perciò I matrimoni Si divorzia A causa Delle stregonerie L'infedeltà Avviene A causa Delle maledizioni Delle stregonerie Avvengono malattie A causa Delle maledizioni Delle stregonerie La gente Si vuole Suicidare Depressa A causa Di una stregoneria O di una maledizione La gente Impazzisce Diventa schizofrenica Perché sono pieni Di stregonerie Di maledizioni Allora Siccome mi mandano Tante mail Allora dico Preparerò un tema Finché la gente Impari E abbia gli strumenti Necessari Per poter Allontanarsi Dalle cose Illecite E gradire Dio E poi Al termine Pregheremo Anche per questo Ricordatemi Per favore Di pregare Per queste esperienze Per insegnare Alle persone A pregare Quando per esempio Soffrono Di queste manifestazioni Come la stregoneria E le maledizioni Adesso leggiamo In numeri 23 Verso 23 Che dice così Nel capitolo 23 Di numeri Il re Balak Voleva distruggere E maledire Il popolo di Israele E il popolo di Israele Era già stato benedetto Da parte di Dio Dio Lo aveva benedetto Dal principio Dio aveva detto Che avrebbe innalzato Un popolo E che lui sarebbe stato Con quel popolo L'avrebbe benedetto Perciò Balak Che era un re pagano Era un uomo idolatra Non apparteneva Al popolo di Israele E lui Per invidia Disse Maledirò Il popolo di Israele Quegli israeliti Affinché Questo popolo Sia sterminato E lui Contattò Un sacerdote mago Un indovino Della sua stessa tribù Di nome Balam Quindi Balam Era uno stregone Un indovino Un medium Ecco Tutti questi termini Hanno lo stesso significato Lo contattò E gli disse Vai E maledici Gli israeliti Quando Balam Stava per andare A maledire Il popolo di Israele Dio interviene E Balaam Che stava Su un asino Stava montando Un asino Per andare Contro il popolo Di Israele A maledirlo A un incontro Col Signore Ad un certo punto L'asino Vide L'angelo Dell'Eterno L'asino Si fermò Non voleva Proseguire il cammino E Balam Gli dava Dei colpi Dicendogli Vai Perché non vai E Cos'è che fece Dio Intervenne Parlando Attraverso la bocca Dell'asino Una cosa Che non era Usuale Anzi Una cosa Straordinaria E l'asino Parlò a Balam E gli disse Ma perché mi tratti Così male Perché mi picchi Se io ti ho servito Tutta la vita Ti ho portato Dappertutto Ti ho caricato Per portarti ovunque Ma Balam Non vedeva Quello che l'asino Stava vedendo Quindi l'asino Parlava A Balam Dicendogli Non maledire Il popolo di Israele Perché io già L'ho benedetto E se io L'ho benedetto Non c'è niente E nessuno Che possa togliere Quella benedizione Che io ho dato Al popolo E nel verso 23 Quando Dio Stava parlando A Balam Disse Oltretutto Anzi Leggiamolo Sì Dal verso 23 Non c'è sortilegio Contro Giacobbe O al popolo Di Israele Non c'è Divinazione Contro Israele Ora Bisogna dire Di Giacobbe Di Israele Che cosa Dio Ha compiuto Quindi Il Signore Disse Non c'è Sortilegio Contro Giacobbe Che possa distruggere Il popolo Di Israele Perché Dio Aveva già Benedetto Il popolo Perciò Niente Nessuno Avrebbe tolto Quella benedizione Cos'è che ci insegna Questo verso Cosa impariamo Da questo verso Impariamo Che Quando Gli uomini E le donne Si convertono In figli di Dio Quando gli uomini E le donne Ascoltano Il Vangelo Del Signore Si convertono Vanno avanti Fanno la volontà Del Signore Si allontanano Dal peccato Vivono una vita Santa e retta Ad un certo punto Arriva un mago Uno stregone Un indovino Per fare loro Del male Per fare Una stregoneria Per esempio Ai figli di Dio Il male Non arriva Ai figli di Dio Il male Non ha nessun effetto Su di loro Non ha effetto La maledizione Sui figli di Dio Perché Dio Già Aveva benedetto Quei figli Dal primo momento Che si erano convertiti Dal primo momento In cui Quell'uomo E quella donna Connobero Dio Dio ha fatto loro Una promessa Dicendo Io ti benedirò E ti porterò Con me Alla vita eterna E ti benedirò Tutti i giorni Della tua vita Dicendo così Quei figli di Dio Non ricevono il male Da parte Della maledizione Dali stregoni Dai maghi Sebbene Ci sono delle persone Che vogliono Fargli del male Per esempio A me Hanno fatto Tante stregonerie Tante Tante cose brutte Volevano farmi Ma La stregoneria Tornata indietro A coloro Che volevano Farmela Perché il Signore Mi ha fatto una promessa E io Cammino col Signore Vivo con Dio Allora Lui mi protegge E mi proteggerà Sempre Perciò Perciò Quelle stregonerie Tornano indietro A coloro Che le volevano fare Il male Torna indietro E i figli di Dio Coloro che cercano Dio Che seguono Questo cammino Sono protetti Da Dio E la stregoneria O la maledizione Torna indietro A colui Che voleva fare La maledizione E il diavolo A causa dell'invidia Fa del male Alla gente Ai figli di Dio Ma Il male Non entra mai Nella vita Della persona Che segue Dio Lo spirito Il demone Del diavolo Non entra mai Nei figli di Dio Come un sentimento Che li possa governare In un senso negativo Perché Dio protegge I Suoi figli Ed è successo Qui In questo verso Quando Dio disse A Balaam Non c'è sortilegio Che possa danneggiare Il mio popolo Perché io L'ho benedetto Così l'ho detto E così sarà E questo rallegra Tanto il nostro cuore Ecco perché Dobbiamo seguire il Signore E fare la sua volontà Se voi volete Tionfare Nella vostra vita Ed essere felici Se voi volete Sentire pace E sicurezza Allora Convertitevi Al Dio vero Al Dio Che ha creato I cieli E la terra Seguite Lui E vedrete Che Lui vi proteggerà Da tutte queste cose brutte Da tutte queste cose cattive Di cui stiamo parlando oggi Passiamo a Deuteronomio Deuteronomio Che si trova dopo numeri Deuteronomio Capitolo 18 Capitolo 18 Verso 10 Qui C'è un semititolo Che dice Proibizioni di praticare la magia Lo spiritismo E le varie forme di occulto Non so se nelle altre Bibbie Francese Inglese Tedesco Ci sia lo stesso semititolo Il fatto è Che qui Mosè Sta ricordando Al popolo di Israele I comandamenti Dicendo loro Non consultate i maghi Non consultate gli spiritisti State attenti A tutte le forme di occulto E nel verso 10 Dice Non si trovi In mezzo a te Qui parla il Signore Dice Che non sia Trovato in te Uomo o donna Chi faccia passare Il proprio figlio La propria figlia Per il fuoco Né chi pratichi La divinazione Né indovino Né chi interpreta Presagi Né chi pratica La magia Quindi il Signore Stava proibendo Tutte queste cose In un modo chiaro Diceva Che non trovi In mezzo a voi Qualcuno Che compie Queste cose Per esempio Passare il proprio figlio La propria figlia Per il fuoco Io mi ricordo La storia Di alcune tribù Indigene Io ho letto Storie Nei libri Che raccontano Che le vergini Di quelle tribù Erano bruciate Vive Per presentarle Davanti Agli dèi Oppure Lanciavano Queste vergini In un lago Per essere Affogate Farle morire Cosicché Venivano Dedicati Agli idoli Ai demoni Agli dèi E il Signore Proibisce Tutte queste cose Che non ci sia In voi qualcuno Che faccia passare Il proprio figlio La propria figlia Per il fuoco Né che pratichi La divinizione Né che sia un indovino Né che interpreti I presagi Né che pratichi La magia Perché tutta questa È abominazione Davanti a Dio Tutto questo È paganesimo Il paganesimo È un miscuglio Di tutte queste cose Tutti i rituali Del diavolo Che sono mischiati Con la religione Il paganesimo È questo Mischiare le cose Del diavolo Con le idee di Dio Del cristianesimo Questo è il paganesimo E la gente pratica Il paganesimo La gente del mondo Magari vi dice Di che religione Appartieni Noi diciamo Apparteniamo Al cristianesimo E tu A che religione Appartieni Ah io sono un pagano Vuol dire Che mischiano Tutte queste cose Tutte queste cose Tutti i rituali Del diavolo Con Gli insegnamenti Del Signore Però noi diremmo Loro Nella mia religione Non si praticano Le divinazioni Non si consultano I tarocchi Non si interpretano Presagi Non si pratica La magia Ecco Il paganesimo E tutto questo Mischia Le cose di Dio Con la malvagità Del diavolo E poi Quando celebrano Le feste Per esempio Quando celebrano Halloween Celebrano Halloween Che è una festa Dedicata al diavolo Cos'è che fanno Si racconta Perché alcune persone Hanno praticato Queste cose Poi si sono ritirati Hanno raccontato Tutto quello che si fanno In queste feste In queste feste Si sacrificano I bebè Oltre a sacrificare Gli animali Oltre a bere Il sangue A fare tante altre cose Sacrificano I neonati Appena nati Oppure quelli Non ancora nati Li tolgono addirittura Dal grembo E li sacrificano Al diavolo E il 31 di ottobre Il diavolo È molto felice Perché gli stanno Celebrando una festa E chi celebra La festa al diavolo? Uomini Donne Famiglie Che dicono Di appartenere Ad una tale religione Dicono No Noi Crediamo in Dio Siamo cristiani E celebrano La festa al diavolo Il 31 di ottobre Questo è il paganesimo Un pagano È una persona Che mischia Le cose del diavolo Con le cose di Dio Ma Dio Non accetta Questo miscuglio Ma le persone Vivono queste cose Perché la gente Vive Quello che il mondo O la società Inventa Presenta Ogni giorno E le persone Si sottomettono A queste cose Si schiavizzano A tutte queste cose Dio secondo voi Sarà contento Con tutte queste cose? Certo che no Poi dice Nel verso 11 Né chi usa incantesimi Né un medium Che consulta spiriti Né uno stregone Né chi evoca i morti Dice il Signore Che non vi sia In mezzo a voi Un uomo O una donna Che usa incantesimi E poi dicono Che di essere cristiani Di seguire il mio Vangelo Dicono di Praticare la religione E invece no Praticano tutte queste cose Sacrificano i figli al diavolo Praticano incantesimi Sortilegi Divinazioni Consultano gli spiriti Praticano la magia nera La magia bianca Sono stregoni Evocano i morti Dicono che è morto Mister X E poi lo evocano Parlano Con il morto E dicono Che bisogna evocarlo Dall'al di là Perché quel morto Parla e dice Di fare le cose In un determinato modo Tutto questo Appartiene al diavolo E Dio dice Allontanatevi Non praticate Tutte queste cose Né tantomeno Consultate i maghi O fate queste cose Dodici Perché tutti quelli Che fanno queste cose Sono in abominio All'Eterno E a motivo di queste abominazioni L'Eterno Il tuo Dio Sta per scacciarli Davanti a te Dice il Signore Che tutte le nazioni Che si sono consegnate Alle divinazioni Agli stregoni Ai maghi Ai morti Tutte quelle nazioni Che si sono Avvicinate Allo spiritismo Li ha allontanati Dalla sua presenza Mentre Ha eletto Un popolo Il popolo di Israele Come il suo popolo Prediletto Perché? Perché tutte le nazioni Si erano già consegnate Alla malvagità E all'abominazione E nel verso 13 Dice al popolo di Israele Tu sarai integro Davanti all'Eterno Il tuo Dio Ma essere integro Significava Non essere né mago Né un divino Né tantomeno Consultare un mago O in un indovino Solamente Bisognava credere Ad un Dio Che è spirito Che è verità Inginocchiarsi A questo Dio Chiudere gli occhi Alzare le braccia Le mani Acclamarlo Pregarlo E Dio È pronto Ad ascoltare A benedire Integro Significa questo Cioè Allontanarsi Da tutti gli abomini E diventare così Perfetto Integro Che bell'insegnamento Ci sta dando Il Signore oggi Passiamo adesso Passiamo adesso Di Isaia Isaia Capitolo 8 Libro di Isaia Che si trova Più o meno A metà della Bibbia Isaia Capitolo 8 Verso 19 Capitolo 8 Di Isaia Verso 19 Qui Il Signore In questo capitolo Parla attraverso Il profeta Isaia Che visse Nell'epoca Del re Ed Isaia Profetizzava Ai re di Israele Ma i re di Israele Non credettero A Isaia Ne tantomeno Ubbidirono A Dio Però Dio Insegnò loro Il cammino Parlò Ai re E poi Logicamente Il Signore A causa Della disubbidienza Del re Mandò loro Dei castighi E nel capitolo 8 Dio dice Ad Isaia Parla al popolo Dicendogli Che deve avere Timore di me Cioè Mi deve amare Rispettare Che mi cerchino Predica questo Al popolo Agli uomini Alle donne Di cercarmi Profetizza E Tra le profezie Di Isaia Che parlava Al popolo Diceva Nel verso 19 E se vi si dice Consultate I medium E i maghi Che sussurrano E bisbigliano Rispondete Non deve un popolo Consultare Il suo Dio Questa è una profezia Che il Signore Rivolse Anche al suo popolo Futuro Il Signore Già Profetizzava Per il suo popolo Che sarebbe nato In futuro E noi siamo E noi siamo E noi siamo quel popolo Da duemila anni A questa parte Viviamo Tutte le promesse Dette nel verso 17 18 19 E qui infatti Nel verso 19 Il Signore Sta già parlando Sta già parlando Del futuro Del Signore Gesù Cristo Sulla terra E che parla E dice Se vi si dice Consultate I medium E i maghi Che sussurrano E bisbigliano Rispondete Non deve un popolo Consultare il suo Dio Deve forse Rivolgersi Ai morti Per conto Dei vivi Ecco Questa era una profezia Del profeta Isaia Ma che si rivolgeva Anche a quello Che sarebbe Accaduto In futuro Con l'arrivo Del Signore Gesù Cristo Che avrebbe formato La sua chiesa Con gente Del mondo Che proveniva Da tutte le nazioni E in questo verso Si dice Se qualcuno Di voi Vi dice Consultate I medium O i maghi Che sussurrano E bisbigliano Voi dovete dire E rispondere Non deve un popolo Consultare Il suo Dio Deve forse Rivolgersi Ai morti Per conto Dei vivi No Quindi questa È la risposta Che bisogna dare A chi ci dice Di consultare I maghi O i medium A chi ci dice Di consultare Un morto Per ricevere Delle risposte Dite no E poi dice Attenetevi Alla legge E alla testimonianza Quindi Attenetevi Alla Bibbia Perché noi Non dobbiamo Rivolgerci Ai medium E ai maghi Perché abbiamo Un Dio Vivo E di potere Quindi questa Era la promessa Per la sua chiesa In futuro Dicendo Attenzione Non consultate Non consultate Questi personaggi Profezia Sogni Sogni E visioni Consultate Me E fate Attenzione A non fare Quello che vi dice Il mondo Cioè Cercare Maghi Medium Indovini No Bisogna insegnare Le persone Questo E dire Noi Abbiamo il Signore Lo Spirito Santo I doni E Dio ci parla Ci rivela Ci insegna Oggigiorno Nella nostra chiesa Infatti Abbiamo questo privilegio E cioè Godiamo Della benedizione Del Signore Attraverso I doni spirituali Attraverso Il dono Della profezia Per esempio Attraverso I sogni Le visioni E Dio Orienta Le persone Attraverso Questi modi Consola le persone Guida le persone Mentre i pagani Che dicono Di appartenere A donatare La religione Ma contemporaneamente Sono anche Dei maghi O dei medium I pagani Ci criticano E dicono No In quella chiesa Esiste la divinazione Come se Loro stessi Non sapessero Che cos'è Una divinazione La divinazione Andare da un mago Da un medium Però se si va Da un mago Da un medium Per prima cosa Vi chiedono I soldi Perché non è gratuito Il consulto Per prima cosa Quindi Vi chiedono Del denaro E poi Dovete Avere una serie Di requisiti Per fare del male Agli altri Ma se Ma se nella nostra chiesa Fosse così Se nella nostra chiesa Ci fosse La divinazione Noi innanzitutto Dovremmo Pagare E poi Dovremmo Fare dei rituali Per ottenere Una maledizione Per qualcuno Ma Dio non si presta A fare queste cose Perché Dio È un Dio di amore È santo È perfetto È il Dio Della misericordia È il Dio Della santità Perciò Non confondete Le cose Non confondete Una cosa Con un'altra Non confondete Le cose di Dio Con le cose Del diavolo Oltretutto Il diavolo Non dà mai pace I maghi I medium Gli indovini Non danno mai pace Né sicurezza Nessuno Né consolazione Non vi dirà mai Guarda smetti di pecare No Al mago Non importa Quello Il mago Vuole che Voi continuate A peccare Perché più Voi peccate Più siete Del diavolo Mentre Dio Ci insegna Lui ci Risponde Ci insegna A vivere Una vita santa Lontana dal peccato Lontana dal male Lui ci insegna A non odiare nessuno A non fare Del male Al prossimo Ci insegna Una vita santa Retta Questa è la differenza Perciò Imparate a differenziare Le cose E non vi confondiate Perché se voi Per esempio Dite In quel posto Ci sono dei maghi Dei medium La divinano Allora voi State bestemmiando Contro lo Spirito Santo Non confondete Non confondete una cosa Con un'altra Dio ci offre La salvezza La felicità E la pace E noi otteniamo Queste cose Tramite Dio Mentre il diavolo Non concede mai Pace a nessuno Anzi Lui fa del male Alle persone E basta Continua sempre A fare del male E le persone Che consultano I maghi E i medium Finiranno Per essere prostrati Dal dolore A causa Dei consulti E del male Che hanno fatto Tramite i maghi E i medium Noi stiamo imparando Perciò Che Dio Ha proibito Di consultare I maghi E gli indovini Oggigiorno Noi Che stiamo seguendo Il cammino Del Signore Ci consideriamo Il popolo Del Signore E Lui Ci insegna E ci continua Di insegnare Tutte queste cose E lo ringraziamo Che ci permette Di leggere la Bibbia Ma siccome ci sono Tante persone Che stanno iniziando Il cammino Bisogna aprire Loro gli occhi Così che si possono Allontanare Dai brutti cammini Leggiamo in Isaia 44 Verso 25 Qui Il Signore Il Signore Tanti gli indovini Io faccio indietreggiare I savi E rendo folle La loro conoscenza Così Dice il Signore Dice che Lui Fa tutte queste cose Perché Lui È potente Lui È il tutto Lui È l'onnipotente Lui È il creatore Che governa Che ha creato Lui Lui Dice che rende Vanni I presagi Dei bugiardi E rende Insensati Gli indovini È così Fratelli Io mi ricordo Una volta E ve lo racconto A modo di testimonianza Che stavo Per andare Ad insegnare In un paese E la gente Sapeva Che io Stavo per andare Ad insegnare In quel paese E quindi Qualcuno Ha voluto Ricorrere Ad una stregoneria Perché il diavolo È mio nemico Quindi il diavolo Ha incitato Dei nemici Per farmi Una stregoneria Sapete Cos'hanno fatto? Hanno inviato Delle api Africane Le api Africane Sono degli animali Assassini E me le hanno Inviate Affinché Si mettessero Qui Sul pulpito Per Pungermi E quindi Mentre io Stavo Insegnando Tutto intorno A me C'erano Circa Otto Api E se loro Mi avessero Punto Sarebbe stata Una morte Sicura Io vedevo Tutti questi animali Che stavano volando Intorno a me In basso All'inizio Pensavo Che erano Delle mosche Quindi Non feci Tanta attenzione Dissi Sono delle Mosche Non sono Delle zanzare Perché le zanzare Pungono Poi danno Prurito Ed è scomodo Io preoccupavo Più di tutto Che non fossero Delle zanzare Ad un certo punto Questi insetti Mi stavano Sempre intorno Mi giravano Intorno E al termine Dell'insegnamento Prima di scendere Dal pulpito Vidi Che tutti Quegli insetti Erano morti Erano tutti Caduti A terra Erano Tutti morti Allora Pensai E dissi Ma Chi è che ha posto Il veleno Mentre io Stavo insegnando Chi è avvelenato Questi animali Io però Non ho visto Nessuno Che è salito Sul pulpito A mettere Del veleno E poi chiesi Al predicatore E dissi Io ho visto Delle mosche Che mi stavano Circondando Adesso sono morte Ma non ho visto Nessuno Che ha posto Del veleno Quando ci siamo Avvicinati Abbiamo visto Che in realtà Erano delle api Africane Ed erano tutte Morte E cos'è che ha fatto Il Signore con me Proprio quello Che dice Nel verso 25 E cioè Io rendo vani Distruggo I presagi Dei bugiardi O dei maghi O dei medium E rendo insensati Lì indovini Questo fa il Signore E questo è vero Perché io l'ho vissuto L'ho testimoniato Io l'ho vissuto Mi hanno mandato Delle api Africane E poi muoiono Perché il Signore Toglie loro La vita Gloria a Dio Ha distrutto Ha reso vano I presagi Dei bugiardi E degli insensati Indovini Ma io morirò Quando Dio vorrà Non quando il diavolo Lo dispone Quindi Questo è quello Che Dio fa Con i maghi E con tutta La magia In generale Il Signore Ha proibito Tutti questi rituali Al suo popolo Antico Ai credenti E al popolo Che poi Il Signore Gesù Cristo Avrebbe formato In futuro Il potere Di Dio Distrugge Tutta la stregoneria Tutti i vani Presagi Dei bugiardi E degli indovini E così Adesso passiamo Al libro di Geremia Dopo Isaia Si trova Geremia Capitolo 27 Verso 9 Geremia 27 Verso 9 Qui Fece tutto il contrario E qui Il Signore Attraverso Geremia Invia un messaggio Di rimprovero Di avvertimento E Nel capitolo 27 Verso 9 Dice Perciò non ascoltate I vostri profeti Nei vostri indovini Nei vostri sognatori Nei vostri stregoni Nei vostri maghi Che vi dicono Non sarete asserviti Al re di Babilonia Dio Stava dicendo In quei giorni Al popolo di Israele Dice Dovete servire Il re di Babilonia Affinché protegga La vostra vita Se voi Vi umiliate Servite Il re di Babilonia Lui non vi ucciderà Ma Loro A causa Dell'orgoglio Dissero Noi non possiamo Umiliarci Ed essere servi Del re di Babilonia Che è un pagano E uno straniero No Noi Non vogliamo Ubbidire Ecco perché Dio poi Alla fine Tolse loro La vita A causa Della loro Disubbidienza Oltretutto Loro consultavano Gli indovini Gli incantatori I sognatori Che dicevano Al popolo Non sottomettetevi Al popolo Di Babilonia Voi dovete Rifiutare Tutto questo Quindi Quegli indovini Raccontarono Tante menzogne Al popolo E cos'è che è successo Al popolo Alla fine Dio Inviò il castigo A tutti Inviando la morte Al popolo Di Israele Perché Ubbidì Agli indovini Piuttosto che A Dio Passiamo adesso Ad Ezechiele Ezechiele Capitolo 13 Ezechiele Capitolo 13 Verso 6 e 7 Qui Il Signore Dice che avrebbe Castigato E condannato I falsi profeti Perché anche I falsi profeti Erano degli indovini Dei stregoni Tutti si facevano Passare per profeti In realtà Non lo erano E Dio Dice che li avrebbe Castigati Perché il popolo Di Israele Dava tanto credito A quei Falsi profeti A quei bugiardi A quegli stregoni E quindi Il popolo Di Israele Ascoltava loro Anziché I veri profeti Del popolo Di Dio E Nel verso 6 Dice che tutto il popolo Viveva Nella vanità Nelle visioni false Dice 6 Hanno avuto Visioni false Divinazioni bugiarde Perché loro credevano In queste cose E dicono L'Eterno Ha detto Mentre l'Eterno Non li ha mandati Tuttavia Essi sperano Che la loro parola Si adempia Cioè Loro si aspettano Che Dio Confermi La falsa parola Dei maghi E dei falsi profeti E Nel verso 7 Dice il Signore Attraverso il profeta Non avete forse avuto Visioni false E non avete Proferito Divinazioni bugiarde Voi dite L'Eterno ha detto Ma io non ho parlato Qui il Signore Stava dicendo Che lo usavano Stava discutendo Con il popolo Di Israele Perché Il popolo Consultava I maghi I medium E i falsi profeti E poi dicevano Che era Dio Che aveva rivelato Alcune cose Ecco Dicevano così Ma non era Dio Che stava parlando Ecco perché Nel 8 dice Perciò Così dice Il Signore L'Eterno Poiché avete Proferito falsità E avete avuto Visioni bugiarde Eccomi contro di voi Dice il Signore L'Eterno Perché? Perché siete stati Bugiardi Avete Proferito falsità Avete avuto Visioni bugiarde Allora La mia mano Sarà contro Tutti i falsi profeti Come dice nel 9 La mia mano Sarà contro i profeti Che hanno visioni false E proferiscono Divinazioni bugiarde Essi non faranno Più parte Al consiglio Del mio popolo Non saranno più Scritti nel registro Della casa di Israele E non entreranno Nel paese di Israele Allora riconoscerete Che io sono Il Signore L'Eterno Ecco Il Signore Ha punito Il popolo Di Israele Per la sua Ostinatezza Perché Dio Aveva proibito Per bocca di Mosè Di consultare I maghi E gli stregoni Ma il popolo Fu disubbidiente Quindi fu castigato Passiamo adesso Al libro di Michea Si trova un poco prima Del libro di Matteo Sono profeti I cui libri Sono brevi Capitoli brevi E pochi E noi quindi Troviamo adesso Il capitolo 5 Del profeta Michea Capitolo 5 Di Michea Non vi posso dire Il numero della pagina Perché voi Forse avete Una Bibbia diversa La mia pagina È la 1122 Nella Bibbia italiana È la pagina 880 Michea Capitolo 5 Verso 12 13 14 Qui il Signore Parla Attraverso Michea E dice Che in futuro Avrebbe inviato Un liberatore Che sarebbe nato A Betlemme Stava parlando Del Messia Stava parlando Del Salvatore Del Re Perfetto Cioè Del Signore Gesù Cristo Che lo avrebbe Inviato In futuro E che lui In futuro Avrebbe benedetto Il gruppo I superstiti Del popolo Di Israele E Che questo personaggio Gesù Cristo Avrebbe tolto Il peccato Dalle persone Permettendo All'umanità Di convertirsi A Dio Con il cuore Perché Gesù Cristo Stesso Avrebbe insegnato A togliere Gli idoli A distruggere I maghi Gli indovini I stregoni Perché il popolo Ormai Si era tutto Contaminato E mischiato Con i maghi Con gli stregoni Con gli indovini E quindi Il Signore Gesù Cristo Quando venne a pregare E a predicare Il suo Vangelo Avrebbe pulito E perfezionato Ogni uomo E ogni donna Per fargli allontanare Da quella tipologia Di vita Di azioni Di rituali Che erano in abominio All'eterno Quindi il capitolo 5 Di Michea Parla di questo E nel verso 12 Tra le altre cose Dice Anzi nel 10 In quel giorno Avverrà Cioè quando si Manifesterà Gesù Cristo Con il suo Vangelo Avverrà Dice l'Eterno Che io farò scomparire I tuoi cavalli Di mezzo a te E distruggerò I tuoi carri Farò scomparire Le città del tuo paese E abbatterò Tutte le tue fortezze Farò scomparire Dalla tua mano Le arti magiche E tu Non avrai Più indovini Perché il Signore Gesù Cristo Avrebbe tolto Tutto questo Distrutto Tutto questo Lui Avrebbe convertito Veramente I cuori Degli uomini E delle donne In cuori santi E perfetti Che avrebbero Così vissuto Una vita retta Lontana dal male Il Signore Gesù Cristo Con il suo Vangelo Avrebbe fatto Quest'opera perfetta Perché il popolo Antico Ebbe la legge I comandamenti Leggevano La legge Tutte le proibizioni Ma il popolo Disubidì Facendo tutte queste cose Illecite Malvagie Ma il Signore Gesù Cristo In futuro Avrebbe compiuto Un'opera perfetta Col popolo E questo è vero Perché una volta Che il Signore Gesù Cristo Iniziò a predicare Il suo Vangelo Cominciò a pulire I cuori delle persone E le tendenze Peccaminose Se ne andarono Vivendo così Una vita santa E retta Perché nel cuore Di quelle persone Non c'era più Il peccato O la tendenza A compiere La malvagità Tantomeno Essere idolatri E andare Dai maghi O essere loro stessi Dei maghi O degli stregoni Quindi il Signore Gesù Cristo Attraverso il Vangelo Trasforma i cuori Degli uomini E delle donne E se qualcuno Dice Che si congrega In chiesa Ma è un mago Un indovino Uno stregone E sta praticando Tutte queste cose Attenzione Perché gli andrà Molto male Nella vita Perché Dio Punirà Quella persona La renderà Così evidente Che Il suo peccato Sarà mostrato Davanti a tutti Perché se quella persona Vuole contaminare le anime Distruggere le anime Allora Dio Non permetterà Di fare quelle cose Per tanto tempo Nella chiesa Perché Lui Castigherà Quella persona Immediatamente Questo è quello Che fa il Signore Ed è quello Che il Signore Gesù Cristo Ha fatto Venendo al mondo Per questo Nel 12 dice Farò scomparire Dalla tua mano Le arti magiche E tu non avrai più Indovini Qui sta parlando Al popolo Di Israele Ma sta parlando Anche ai figli Di Dio Alla chiesa In te Nella tua mano Non ci saranno Arti magiche Ne avrai più Indovini 13 Farò scomparire Di mezzo a te Le tue immagini Scolpite I tuoi idoli E le tue colonne Sacre E tu Non ti prostrerai più Davanti all'opera Delle tue mani È vero Il Signore Dice Non tornerai più Ad essere idolatra Dio Mi ha tolto Tutte queste cose E non sono più Tornata indietro All'idolatria Ad adorare Degli esseri Dipinti Quadri Statue Immagini Perché Dio Ce lo toglie dal cuore Questo è vero Quello che sta scritto qui E oggi si compie Nella nostra vita 14 Io sterminerò Di mezzo a te I tuoi asherin Cioè immagini E distruggerò Le tue città E farò vendetta Con ira E con furore Delle nazioni Che non hanno voluto Ascoltare Ecco l'ira del Signore Castiga Coloro che non lo ascoltano Dio fa queste cose Perché Lui non permette Queste abominazioni Nel suo popolo Adesso passiamo A Malachia Capitolo 5 Si trova Dopo Zaccaria A Geo A Bakuk Sono tutti libri brevi Comunque Malachia Si trova prima di Matteo Quindi Malachia Qui si parla Di una benedizione Per il futuro Per l'epoca Del Signore Gesù Cristo E dice qui Il Signore Nel verso 5 Così mi avvicinerò A voi Per il giudizio Sarò un testimone Pronto Contro gli stregoni Contro gli adulteri Contro quelli Che giurano il falso Contro quelli Che frodano Il salario E l'operaio Che opprimono La vedova E l'orfano E che pervertono Il diritto Dello straniero E non temono me Dice l'Eterno Degli eserciti Quindi dice che il Signore Sarebbe giunto A cambiare A liberare E a castigare I disobbedienti E a benedire I credenti Lui Abbiamo quindi Finora Imparato Il bene E il male Riguardo questo tema Ma Desidero anche Leggere Come Il popolo di Israele Si contaminò Con il paganesimo Con le altre nazioni Appunto E lo leggiamo Nella seconda Del re Retrocediamo Nella Bibbia Seconda del re Capitolo 21 Seconda del re Capitolo 21 Qui Troviamo Il re di Manasse Questo re Manasse Si comportò male Davanti agli occhi Dell'Eterno Fece male Agli occhi Dell'Eterno E vediamo Cosa ha fatto Questo re Manasse Dice Verso 1 Manasse aveva 12 anni Quando iniziò a regnare E regnò 55 anni A Gerusalemme Sua madre Si chiamava El Siba Egli fece Ciò che è male Agli occhi Dell'Eterno Secondo Le abominazioni Delle nazioni Che l'Eterno Aveva scacciato Davanti ai figli Di Israele Egli Egli Questo re Ricostruì Gli alti luoghi Che Ezechia Suo padre Aveva distrutto E resse altari E lo servì E lo servì Quindi rese culto A quelle cose Sapete cos'è L'esercito del cielo L'esercito del cielo Sono il sole La luna E le stelle I segni Zodiacali I pianeti Anche Anche se non si vedono Però sicuramente C'è qualcuno Che adora i pianeti Ma comunque Il sole La luna E le stelle E i segni Zodiacali Sono i principali Appartenenti All'esercito del cielo E questo Manasse Adorava tutte queste cose Rendendo loro Omaggio Cioè Servendole Quattro Inoltre E resse altari Nella casa dell'Eterno La casa dell'Eterno Era il Tempio Che Salomone Aveva costruito Per Dio E in quel Tempio Manasse Il re Manasse Essendo il re Di Gerusalemme Nel Tempio Costruì Altari Ai suoi idoli Ai suoi dei Lì Proprio dentro Nel Tempio Dedicato al Signore Quindi Inoltre E resse altari Nella casa dell'Eterno Riguardo Alla quale L'Eterno Aveva detto In Gerusalemme Porrò il mio nome E quando Dio Ved Questa abominazione Questa profanazione Del Tempio Dio Si allontana Da Manasse Dice Basta Adesso Castigo Manasse E il suo popolo E infatti Dice che vengono Per il fuoco Quindi l'Eterno, provocandolo ad ira. Quindi questo re Manasse e tutti gli altri re provocarono ad ira l'Eterno. Sette, mise addirittura un'immagine scolpita di Ashera, che aveva fatto nel tempio di cui l'Eterno aveva detto a Davide e a Salomone, suo figlio, che lui si sarebbe manifestato in quel tempio, ma adesso lo stavano profanando con tutte quelle immagini, con le divinazioni, con le maghi e con i medium. Quindi Dio si arrabbiò con il popolo di Israele e lo allontanò dalla sua presenza, perché non obbidì a Dio, perché fece abomini e peccati di fronte a Dio, consultando maghi, medium, stregoni, praticando la magia, facendo incantesimi. Hanno tanti nomi tutti questi rituali, ma bisogna allontanarsi da tutte queste cose, né farle né andare a consultare coloro che fanno queste cose. Non convertitevi nel tempio del diavolo, non convertitevi nella casa del diavolo. La vostra vita non deve appartenere al diavolo, perché il diavolo distrugge. Il diavolo non dà felicità, distrugge, lui rovina. Lui fa sì che le persone si suicidano, che si avvelenino, che si uccidano gli uni gli altri, che uccidano il nonno, la nonna, il fratello, la sorella, e non sentono nulla. Questo lo fa il diavolo, perché la gente comincia a praticare tutte queste cose, che sono in abominio all'Eterno. Ecco perché Dio si arrabbiò così tanto e dice nel verso 12, così dice l'Eterno, il Dio di Israele. Dice, ecco, io faccio venire su Gerusalemme e su una tale shagora che chiunque ne sentirà parlare ne avrà entrambe le orecchie rintronate. Il gran male era che avrebbe inviato l'esercito di Babilonia per distruggere la città. 13. Estenderò su Gerusalemme la corda di misura di Samaria e il filo a piombo della casa di Aqaba. E ripulirò Gerusalemme come se ripulisce un piatto che, una volta ripulito, si capovolge. Così, abbandonerò il residuo della mia eredità e li darò nelle mani dei loro nemici ed essi diventeranno preda e bottino di tutti i loro nemici, perché hanno fatto ciò che è male ai miei occhi e mi hanno provocato a dire dal giorno che i loro padri uscirono dall'Egitto fino ad oggi. Ecco, questo è quello che fu e fece il popolo di Israele. Il popolo di Israele si contaminò commettendo abominazioni nel Tempio che Salomone aveva costruito per il Signore. Ecco perché il Signore disse, da adesso in poi il mio Tempio sarà spirituale non più fisico, perché quello fisico viene profanato, mentre quello spirituale no, perché io lo renderò perfetto. Così ha fatto il Signore. Il Signore ha fatto una promessa ai Suoi seguaci, cioè che avrebbe pervezionato e pulito i loro cuori affinché non ci sia più peccato, malvagità, idolatria, ma che siano perfetti, perché è questo che Dio vuole, un popolo perfetto, santo, che lo lodi in spirito e in verità. Perciò il Signore dice che c'è un premio per tutti coloro che cercano Dio in spirito e in verità e che si allontanano da tutte queste contaminazioni. C'è un premio e lo dice in Apocalisse 9, è l'ultimo libro della Bibbia. Apocalisse capitolo 9, versi 20 e 21. Qui parla del castigo che il Signore invia a tutto il suo popolo. Lui invia alla fine del mondo, mandando segnali all'umanità. e l'Apostolo Giovanni vedeva tutto questo nelle visioni e nel verso 20 aveva una visione e dice, vedeva degli uomini e il resto degli uomini che non erano uccisi da queste piaghe, perché lui in quel momento aveva una visione e vedeva tutte le persone morire nelle piaghe e noi non dubitiamo di questo perché adesso noi viviamo una piaga, il coronavirus. Il coronavirus è una piaga che ha ucciso tante persone e quindi nel capitolo 9 di Apocalisse parla di una piaga che Dio inviò al mondo per far morire alcune persone ma non tutte e dice, il resto degli uomini che non furono uccisi da queste piaghe non si ravvide ancora dalle opere delle loro mani. Per non adorare i demoni e gli idoli d'oro, certo Dio manda delle piaghe per far sì che la gente si ricordi di Dio, ma la gente continua la propria vita e cos'è che continua a fare? Non si ravvede ancora dalle opere delle loro mani per non adorare i demoni e gli idoli d'oro, d'argento, di bronzo, di pietra e di legno che non possono né vedere né udire né camminare, quindi la gente non smette di adorare queste cose. Non si ravvede, anzi continuano a costruire immagini, statue di oro, di bronzo, di pietra, di legno, d'oro, ma queste cose non possono né vedere né udire né camminare, li fanno sedere come su un trono, come se fossero degli esseri umani, ma non vedono, non ascoltano, non camminano, danno loro degli appellativi, li chiamano santi, sante, ma li devono caricare su un trono perché non riescono a camminare né parlare né vedere. Ecco, alcuni credono a queste cose e dicono io credo in Dio, ma quale Dio se Dio è uno spirito in verità? Non puoi adorare un'immagine, una statua, non puoi caricarli a spalla e portarli su un trono? No, perché non possono né camminare né udire né camminare. 21, ed essi non si ravvidero dai loro omicidi, né dalle loro magie, né dalle loro fornicazioni, né dai loro furti. Quindi siccome il popolo non si pentì, allora più avanti Dio, cos'è che fa? Getta tutti nel lago di fuoco. Questo è il castigo. Noi quindi stiamo imparando il cammino della rettitudine e dobbiamo stare attenti e come vi fate attenzione. Fate attenzione per esempio quando si parla dei morti. Attenzione a non consultare o a evocare i morti perché ci sono tanti posti del mondo nei quali si evocano i morti, si onorano i morti. Ci sono inoltre posti dove portano il cibo ai morti, portano fiori, costruiscono degli altari perché credono che quei morti stanno vedendo e partecipano al banchetto mangiando il cibo. Poi ci sono posti in cui credono ai santi e alle sante, ma abbiamo appena letto che sono statue che non possono né vedere né udire né camminare, devono caricare queste statue. Attenzione, non fate queste cose perché Dio nel Vangelo la prima cosa che ha fatto è togliere l'idolatria, questa tendenza, questo credo, il credere a queste cose affinché la gente possa essere santa, perfetta e possa essere benedetta da Dio. Poi cos'altro possiamo dire? Possiamo parlare anche del 24 di dicembre che è una festa pagana, perché? Perché il 24 di dicembre era la festa di un Dio, di un idolo, era la festa della mitologia e quando le persone cominciarono ad ascoltare il Vangelo del Signore Gesù Cristo dicevano cos'è allora che possiamo fare con la nostra festa del 24 di dicembre perché noi il 24 di dicembre onoriamo il nostro Dio. Allora ascoltando il Vangelo e la confusione che c'era dissero continuiamo con la nostra festa del 24 di dicembre ma cambiamo gli nome. Adesso non è più il nostro idolo ma diciamo che è nato Gesù Cristo, ma la Bibbia non menziona mai nessuna data, non dice mai quando Gesù Cristo è nato. Oltretutto Gesù Cristo non è un essere umano da celebrargli anniversari o compleanni ogni anno perché Lui è Dio e Lui non ha né principio né fine perché Lui è eterno. Quindi questo è tutta una mancanza di rispetto e di idolatria e di attenzione. Se noi vogliamo guadagnare la vita eterna, se vogliamo gradire Dio, se vogliamo essere felici nella vita, avere pace e felicità nella vita, ubidiamo ai comandamenti del Signore, ubidiamo a Dio e seguiamo i Suoi passi. Ma se voi volete essere schiavi del diavolo allora continuate nella vostra vita, nelle vostre celebrazioni, nelle vostre feste, credendo nei vostri santi, sante, nelle vostre credenze, ma voi sarete una persona infelice nella vita, tormentata e un giorno sentirà magari il desiderio di togliersi la vita perché sentirà che la vita non ha senso. Quindi ci sono questi due cammini. Ubidiamo il Signore quando Lui ha proibito tutte queste cose, ubidiamoli e seguiamo il cammino di un Dio vivo, in spirito e in verità. E Lui sì che ci darà felicità e pace. Non vi lasciate comprare per un cibo, non vi lasciate comprare per niente o per un cibo speciale, in una data speciale, in un giorno segnalato, perché in quel giorno si prepara un cibo speciale. Se volete mangiare quel cibo che si mangia in quel giorno specifico, compratelo un altro giorno dell'anno e mangiatelo un altro giorno dell'anno. Non fatelo in quel giorno che dice il mondo, perché altrimenti così state adorando il diavolo e voi state distruggendo la vostra vita spirituale e anche di coloro che vi conoscono, che sono in chiesa, che stanno seguendo il cammino del Signore. È importante questo. Oggi quindi abbiamo imparato a non consultare né tantomeno convertirsi in maghi e in medium. Che Dio vi aiuti, vi insegni, vi dia sapienza, saggezza, intelligenza, conoscenza e che metta nei vostri cuori amore verso di Lui, che metta nei vostri cuori la felicità, la pace, l'allegria e che metta nei vostri cuori l'ubbidire a Dio, perché ubbidire a Dio è meglio di qualsiasi altro sacrificio nella vita e che Dio quindi stia con tutti voi, che Dio vi benedica. Mi cari fratelli e sorelle e a tutti i pastori, diventate maestri e maestre della parola di Dio, della dottrina. Grazie. Ringraziamo il Signore e adesso preghiamo Dio, Padre Santo. Grazie Signore per l'opportunità che ci hai dato oggi di essere qui davanti alla Tua presenza, grazie a questo insegnamento. Grazie Signore per tutte le persone, per tutti i fratelli, le sorelle e tutti coloro che oggi si sono riuniti insieme a noi per ascoltare il Tuo insegnamento. Anche tutte quelle persone nuove che si sono aggiunte, quelle persone nelle quali Tu hai posto nel loro cuore un principio di innamoramento verso la Tua parola, verso i Tuoi cammini, verso la Tua verità. Grazie Signore perché sono tante le benedizioni che Tu ci hai dato e ti chiedo Signore di aiutarci. Aiutaci tutti, aiuta tutte le persone che possono capire la dottrina, che possono capire i Tuoi cammini e imparino a fare la Tua volontà e vadano avanti Signore in questo cammino perfetto, retto che porta alla vita eterna. Grazie Padre Santo grazie Signore per l'allegria, l'armonia che ci dai e ti chiedo adesso per tutti coloro che sono malati di diverse malattie fisiche o psicologiche. Ci sono tante malattie Signore nel corpo perciò ti chiedo che Tu possa guarire ognuno di loro e che Tu possa rivelare in sogni, in visioni, i Tuoi insegnamenti. Rivela Signore gli errori così che le persone possano correggersi perché magari stanno peccando, stanno sbagliando ed è per quello che magari sono malati. Magari c'è un motivo Signore e rivela loro affinché le persone cambino, cambino e vivano così una vita in santità, in rettitudine e possano godere della Tua mano potente, delle Tue benedizioni, delle Tue guarigioni, dei Tuoi miracoli. Signore guarisci tutte le persone da ogni tipo di malattia Signore perché le malattie sono multiple Signore. Tu conosci la malattia di ognuno, stendi la Tua mano potente, liberali Signore, guarisci Signore. Ci sono tanti bambini malati, ci sono tante donne malate, ci sono tante donne sterile che non possono avere figli e vogliono avere dei figli, altre donne che sono incinte ma che hanno nel grembo già un figlio malato, ma Tu sei il loro medico divino, sei il nostro medico divino. Stendi la Tua mano pertanto Signore e guarisci, libera Signore da ogni male, da ogni malattia fisica e psicologica. Togli Signore la stregoneria, guarda Signore che ci sono tante persone che sono vittime di maledizioni, di stregonerie e vivono tristi, amareggiati, disperati, non riescono a dormire, hanno incubi, sentono delle voci perché il diavolo che parla loro e danno e da loro degli ordini come di suicidarsi e ti chiedo Signore perciò di liberare queste persone, proteggile dal male, abbi misericordia di ognuno di loro Padre Santo. Grazie inoltre Signore per concedere i desideri dei cuori, per concedere le richieste, per concedere Signore le tue promesse. Grazie Signore. Ascolta e benedici ognuno di loro Padre Celeste. Grazie nel nome glorioso di Gesù Cristo tuo figlio amato. L'ho dato e glorificato il tuo nome per sempre. Grazie Signore. Adesso cantiamo al Signore il coro 162 che si intitola Tutto è possibile. Tutto è possibile per Dio. Tutto è possibile perché Lui è il Dio potente, è il creatore, è il Signore che ci ha creato e ci ha fatto tante promesse e Lui ci aiuta e compie tutto quello che promette e tutto è possibile. Esistono i miracoli nella vita. Le cose che succedono, benché siano difficili, non sono impossibili se confidiamo in Dio. Coro 162. Tutto è possibile, se puoi credere. 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 Tu, 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 tu Crediamo in Te, Signore. Grazie, vi amo. Tanti abbracci, tanti baci a tutti voi. Tanti saluti anche per i bambini. Che Dio vi benedica. Grazie.